Clizia Incorvai e Paolo Ciavarro da Grigento nella cattedrale di San Gerlando hanno celebrato il battesimo del loro bimbo nato a febbraio. Per Gabriele hanno scelto un padrino d'eccezione, Alfonso Signorini, colui che ha fatto da cupida la coppia scegliendoli nel cast del grande fratello Vip. Clizia elegantissima, con un lungo abito celeste e il papà elegante in blu. C'era anche Nina, la bimba che l'influenza era avuto dall'ex marito Francesco Sarcina. Dopo la cerimonia in chiesa la festa si è spostata e arriva al mare. Non sono mancate bolle di sapone, balli sfrenati, Signorini ha commosso tutti con un discorso in cui ha raccontato l'amore di Clizia e Paolo. Perché questa è la dimostrazione che non solo il grande fratello è vero, al contrario di tutto quello che dicono che è tutto scritto, che è tutta una sceneggiatura, perché questa è la dimostrazione che è vita vera.